Buongiorno da ETG Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming anche sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV. In primo piano la visita nelle Marche del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi da Pesaro fino ad Ancona dove ha garantito l'impegno per il rilancio del capoluogo di regione anche sotto aspetto culturale e dell'arte. Sentiamo Laura Meda. Oggi ad Ancona è stato il giorno del sottosegretario Vittorio Sgarbi. Oggi pomeriggio ha visitato la chiesa di San Domenico riaperta da soli due giorni grazie a un finanziamento di 40 mila euro per la messa in sicurezza ma arriveranno altri milioni per la ristrutturazione. E poi la Pinacoteca, i sotterrani che hanno bisogno di avere nuova vita e infine la Mole dove verranno allestite anche nuove mostre. Sottosegretario di nuovo ad Ancona, un rapporto di amore e odio con questa città. Adesso in che fase è? L'odio non c'è mai stato, ma c'era una città strana diciamo nella quale ogni attività culturale sembrava impermeabile alla città e la città ad essa. Con la vittoria del centrodestra e l'attuale sindaco abbiamo ipotizzato una serie di mostre che potrebbero senza fatica partire già in inverno con i dipinti del museo che io presiedo che è il primo museo di arte contemporanea, modelle contemporanea d'Italia che è il Martiro Vedetto con una mostra dal futurismo all'informale. E da qui andare avanti con una serie di iniziative che riguardano artisti marchigiani e anche anconetani come Gino De Dominicis, poi un altro artista meraviglioso e fantasioso che è nato a pedaso ma comunque marchigiano che è Serafini e poi come è uscito sui giornali come avete visto finalmente nel 25 direi la mostra sul rinascimento adriatico. Per questo occorre anche non solo restituire le chiese all'apertura ordinaria anche in inverno con i capolavori che hanno da Gentileschi a Tiziano a Lorenzo Lotto ma anche vedere il funzionamento di un museo che come ricorda l'assessore è inemorabile per non avere un catalogo, un museo senza catalogo non c'è neanche a Matelica insomma non c'è un posto dove non c'è Arecanati, per cui evidentemente c'è stata una distrazione o forse buoni direttori anche hanno lavorato, oggi varrò a posto per vedere, fare un sopralluogo alla Pinacoteca e farla ritornare in luogo dove ci sono capolavori di Crivelli, capolavori di Tiziano di Lotto per quello che ricordo e farla diventare la Pinacoteca di una grande città come deve essere quindi l'amore e l'odio non esistono, esiste una considerazione di una regione di grande civiltà e di grande bellezza con un turismo fortunatamente anche sofisticato che si è accesa, come dice il plurale della sua denominazione, Marche e poi lentamente è sembrato che qualcosa fosse sia dissolto ad Ancona per cui ricostituirlo è una legittima resurrezione, credo che la città lo meriti Cambiamo argomento e parliamo invece di salute perché è arrivato da parte della regione Marche uno stanziamento, un fondo di quasi di poco più, di 9 milioni di euro approvato nel piano operativo 2023 per il recupero ed il miglioramento delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, recovery e screening L'obiettivo ha spiegato l'assessore alla sanità Filippo Salta Martini e il recupero delle prestazioni del 2020, 2021, 2022 e 2023 entro il 31 dicembre 2023 e nasce dalla necessità di dare al più presto risposte ai cittadini in merito alle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza pandemica ed all'obbligo di rispettare i criteri previsti dal piano nazionale per il governo delle liste di attesa A questo scopo sono stati già stanziati fondi dedicati non aggiuntivi lo 0,3% del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 come abbiamo detto per la regione Marche pari a poco più di 9 milioni di euro Il post all'ovione perché sono cominciati i lavori da parte della regione Marche per la pulizia degli argini del fiume Misa in particolare in alcune frazioni del comune di Senigallia Partiti lunedì gli interventi di pulizia straordinaria del fiume Misa Escavatori in azione sull'alveo per rimuovere detriti, terra e ghiaia e risagomare le sponde Macchinari specializzati per eliminare la vegetazione in eccesso Quasi due chilometri di asta fluviale da bonificare per scongiurare lo spettro di nuove alluvioni devastanti Il primo tratto in cui si concentrano gli operai è quello che va da Borgobicchia verso il ponte dell'Arceviese I lavori sono stati finanziati per 300 mila euro dalla regione e guidati dal genio civile Avranno durata di circa 60 giorni Dunque, con altri 300 mila euro già stanziati si procederà dal ponte verso la città di Senigallia Alle mie spalle un escavatore che sta procedendo con le operazioni di pulizia straordinaria del fiume Misa naturalmente ostruito da alcuni tappi come puntualmente documentato dal comitato tra i due fiumi in tutti questi anni Quella porzione di terra che sta rimuovendo in questo momento l'escavatore verrà utilizzata per rinforzare l'argine destro del fiume mentre tutta la restante, fino a questi picchetti di colore blu alle mie spalle sarà rimossa e poi portata altrove Questa la richiesta preeminente da parte dell'associazione che riunisce la stragrande maggioranza delle famiglie e delle imprese alluvionate portare via dal fiume terra e ghiaia che in previsione delle future piene del Misa verrebbero nuovamente spazzate via e successivamente sedimentate con il rischio di nuovi futuri tappi Finalmente i lavori sono iniziati e speriamo come si suol dire che sia la volta buona che soprattutto ci aspettiamo prima possibile di vedere camion di terra essere portati fuori dall'alveo perché l'alveo ha bisogno di aumentare la portata dell'acqua perché così l'acqua trabocca perché come abbiamo segnalato più volte non c'è più un alveo del fiume Come anticipato dalla regione ad inizio settimana Stamattina sono stati programmati altri due interventi nell'entroterra entrambi da 300.000 euro Il primo tra il ponte di Pianello di Ostra verso Monte il secondo dal ponte del Coppetto verso Valle Dopo l'Anconetano, presto assicurato il governatore Francesco Acquaroli saranno delineati i lavori nel Pesarese Andiamo a Tolentino capitolo quello della gestione dei rifiuti Il punto con il Cosmari si parla di leggeri aumenti per quello che riguarda le tariffe e dunque ascoltiamo la conferenza stampa dei vertici aziendali Dire che abbiamo aumentato le tariffe o aumenteranno le tariffe del 250% mi pongo dalla parte di un cittadino che rischia di svenire perché non sono queste le cifre assolutamente no ma molto, molto palesemente errate Parte da qui il presidente facente funzioni Giuseppe Giampaoli Sono state diffuse delle vere e proprie fake news e i mittenti del suo messaggio sono i sindacati che qualche giorno fa avevano attaccato il Cosmari L'emergenza rifiuti in provincia di Macerata sta alzando un polverone mediatico con la discarica di cingoli piena occorre rivolgersi altrove L'incremento è limitato al 14% nell'anno 2023 al 5% nell'anno 2024 però spalmandoli negli anni e con possibilità di tornare indietro quando avremo la discarica di cingoli Ecco, la discarica di cingoli va ampliata e questo accadrà non prima della fine del 2024 fino ad allora la provincia di Macerata ha trovato l'accordo con quella di Fermo ha un prezzo che è di 142,75 che è a tonnellata pensate che pesa è oltre 180 euro per darvi un'idea è un accordo di reciprocità tutti e due gli ambiti hanno prezzi che sono gli stessi nell'ambito di riferimento maggiorati del 5% cioè loro pagheranno i panolini quello che pagano i nostri cittadini più 5% e noi paghiamo un organico quando lo porteremo giù se lo porteremo i prezzi applicati a Macerata più 5% Alla conferenza stampa oltre al presidente erano presenti il consigliere di amministrazione Emanuele Pirantoni e il direttore generale Pellei che ha voluto smentire anche la mancanza di programmazione del Cosmari Siamo rimasti un po' sorpresi di questo perché mancanza di programmazione non è l'evidenza anzi assolutamente Io mi sono trovata con una situazione di investimenti in avviati che stiamo portando avanti ma soprattutto con questa situazione della discarica quindi del termine della discarica e della necessità di conferire rifiuti da qualche parte Chiudiamo tornando a parlare della Quintana di Ascoli e dell'incidente ai danni della Cavallo Camesi che poi è stata soppressa in questo caso il WWF Marche che prende posizione sulle polemiche in seguito dice tramite le parole del delegato Tommaso Rossi è davvero incredibile e inaccettabile come nel 2023 degli animali possono essere fatti morire per consentire il divertimento degli uomini comprensibile rispettare le tradizioni popolari ma lo si può fare anche modificandole e attualizzandole alle mutate sensibilità dei tempi in tutti i settori del vivere l'evoluzione culturale continua Rossi ha portato a sensibili mutamenti di quelle che erano abitudini e tradizioni legate alla cultura popolare di tempi arcaici non si capisce perché anche in questi ambiti che riguardano il rispetto degli animali non si debba fare altrettanto e dunque WWF Marche chiede che si apra un tavolo urgente di confronto con le amministrazioni locali e le principali associazioni di tutela ambientali e animaliste per cercare delle soluzioni che riducano l'impatto di rischi per la salute animale Noi siamo in chiusura vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina facebook di Etv Marche grazie invece per l'attenzione e l'augurio e di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.